Musica Eccoci all'interno di Hair Studio in compagnia di quest'altra bellissima bionda Antonella che è la titolare Buongiorno, complimenti per questo negozio proprio nel cuore del quartiere Marconi Antonella ma iniziamo da quando eri piccola, la passione per questo lavoro? Ho iniziato all'età di 14 anni, mi sono presentata in un negozio in via delle carrozze e lì ho iniziato il mio percorso, mi è piaciuto immediatamente, ho fatto la mia fatica dopodiché ho fatto anche una scuola però non riconosciuta perché la nostra scuola era nei negozi all'epoca e poi a distanza di tempo avevo la passione di aprire un mio negozio solamente che con le ragazze, la vita e 13 anni fa ho deciso di aprirmelo qui Allora che cosa offriamo ai propri clienti Antonella? Io lavoro molto sui capelli ricci, ho tante ragazze, tante persone che hanno capelli ricci Le vogliono lisci? Le vogliono tagliare in un certo modo, non è facile gestire un capello riccio per cui diamo un ottimo servizio per quanto riguarda i capelli ricci Ecco ho visto prima che stavi effettuando un taglio e devo dire a differenza di tanti parrucchiere ho visto che hai tagliato pochissimo perché comunque tante volte si va dal parrucchiere per una spuntatina e invece magari ne tolgono tanto, invece ho visto che tu rispetti ovviamente le puntine Le rispetto perché se non hanno un'esigenza di avere un taglio il capello comunque ha bisogno di essere tagliato come se stai potando una pianta per cui anche se gli dai quella piccola leggerezza alle punte loro respirano e crescono molto meglio i capelli Bene Antonella, vedo che comunque nel tuo negozio si può anche fare la ricostruzione delle unghie? Sì, ho mia figlia che sono sei anni che è esperta in questo campo delle unghie facciamo ricostruzione, tip, smalto semipermanente e un manicure semplice pedicure, pedicure estetico, tutto ciò che riguarda l'estetica mani e piedi La sposa ovviamente, insomma le spose sono ecco in primo piano per queste acconciature trucchi e acconciature Antonella? Offriamo anche trucchi e acconciature personalizzati e ne facciamo molti in questo salone e quindi anche chi è pronto a sposarsi può venire qua e sarà ben accontentata di ciò che desidera E vi ricordo che è il studio aperto dal lunedì al venerdì e potete anche vedere la domenica ma su Appuntamento Continuiamo il giro, andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!